Non te l'ho fatto più, ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa. Lugite Magistris, Berlusconi dopo aver attaccato la stampa adesso attacca anche l'Unione Europea con programmi pazzeschi? Ultimamente siamo al delirio del Presidente del Consiglio, non sa più con chi prendersela, dopo essersela presa con i giudici, con i magistrati, con la libera stampa, adesso il fallimento del governo viene oscurato attraverso attacchi all'Unione Europea. C'è stato un escalation, è cominciato con l'immigrazione, c'è il fallimento totale della legge Bossi-Pini, le immigrazioni sono aumentate, sono stati calpestati i diritti umani con le ultime tragedie che sono avvenute nei mari antistanti le coste italiane. Per non evidenziare il fallimento di questo governo, il Presidente del Consiglio se l'è presa con l'Unione Europea. La stessa cosa ha fatto con le carceri, di fronte al dramma della sicurezza nel nostro Paese, la privatizzazione della sicurezza attraverso le ronde e attacchi ai magistrati, ha pensato bene di scaricare anche le responsabilità della giustizia e del sovraffollamento delle carceri sull'Unione Europea. E da ultimo l'attacco forzennato all'Unione Europea in generale, alla Commissione, ai portavoci dell'Unione Europea. Questo perché? Perché in Europa ormai è evidente a tutti il fallimento, anche al centrodestra europeo, anche al Partito Popolare europeo, il fallimento di Berlusconi. Siccome l'immagine del Presidente del Consiglio è assolutamente deteriorata all'estero dopo le vicende papi, per capirci, dopo attraverso la privatizzazione della cosa pubblica e l'utilizzo quale utilizzatore finale del corpo femminile, questa immagine del Presidente del Consiglio è completamente lesionata e non fa altro che prendersela quindi con la Commissione Europea per mascherare anche il fallimento della politica economica e del lavoro del governo. Questo è molto grave, perché invece nel Parlamento europeo si stanno affrontando cose molto serie, cominciare proprio dai gravi temi dei cambiamenti climatici e dell'immigrazione. Berlusconi farebbe bene a dimettersi. Qual è la portata, la gravità della minaccia che ha fatto Berlusconi? Io paralizzo i lavori della Commissione Europea, magari i media italiani non riescono a rappresentarla adeguatamente, però in Europa c'è scandalo per questo. Sì, ma questo è un passaggio di una gravità inaudita, non si è mai visto che un Paese democratico minacci di paralizzare un'istituzione semplicemente perché magari questa istituzione dice delle cose sgradite al Presidente del Consiglio, che si sta comportando come un piccolo peronista in Italia, come un dittatore che vuole consolidare il disegno piduista, annientando l'indipendenza della magistratura, massacrando la libertà dell'informazione, facendo un assetto verticistico del potere, riducendo il Parlamento a mero organo di ratifica dei voleri del Premier, privatizzando la sicurezza attraverso le ronde, riempendo il Paese di militari per governare il conflitto sociale che verrà fuori perché c'è il fallimento totale della politica economica e del lavoro di questo governo.